buongiorno allora come vedete qua sotto ho i tessuti duo suede quelli che avevo acquistato da bead pearles boutique un po di tempo fa che vi avevo fatto vedere appunto nel in un vecchio video acquisti vi avevo detto in quell'occasione che avrei voluto farvi una recensione più approfondita di questi tessuti insomma farvi sapere che cosa ne pensassi è passato un po di tempo e ho avuto modo di provare quasi tutti i colori forse solo uno due non ho provato e diciamo che mi sono fatta un'idea mia insomma che è assolutamente personale però spero che insomma vi possa comunque aiutare allora diciamo subito che qualitativamente sono buoni cioè è un buon prodotto è veramente un buon tessuto sia al tatto che insomma alla vista è un buon prodotto la cosa che si nota subito però è lo spessore che avevo notato appunto anche nel video acquisti usandolo appunto sulle creazioni e beh questa storia dello spessore risulta molto evidente diciamo che è quasi il doppio di un ultrasuite normale anche se poi tra i vari ultrasuite comprati in vari negozi ci sono anche lì differenze di spessore ce ne sono alcuni che sono proprio sottilissime ce ne sono altri che sono un pochino più spessi ma questo risulta diciamo quasi il doppio di un ultrasuite normale e questo cosa comporta comporta a mio parere delle difficoltà ulteriori quando andiamo a rifinire la creazione nel senso che soprattutto nei casi di creazioni complesse ai bordi insomma che non sono lisce ma hanno molte rientranze si fa più fatica con le forbici a tagliarlo servono proprio delle forbici molto molto buone per avere un buon risultato quindi poi alla fine visivamente è comunque bello il risultato perché è un bel tessuto però insomma si fa fatica più fatica a ritagliare in modo molto preciso il contorno un'altra cosa che ho notato è il fatto che del bordo del bordo colorato cosa intendo allora diciamo che ci sono differenze tra colore e colore infatti ci sono alcuni colori che tra virgolette mi sono piaciuti ed altri che non comprerei non ricomprerei assolutamente perché quando si tagliano allora questi colori questi tessuti hanno due colori hanno un fronte e un retro se così si vuole chiamare uno più scuro ed uno più chiaro in alcuni colori è più evidente in altri meno vedete ad esempio nel blu già è molto più evidente oppure anche qua nel grigio è molto evidente anche qua nel verde eppure nel marrone allora il fatto che siano di due colorazioni che cosa comporta comporta che quando lì andate a tagliare il bordo risulti scuro nel senso che se voi usate lo rivestite dalla parte più scura nel senso che la parte più scura è la parte esterna quella che si vede il bordo non sarà tanto evidente se invece voi usate volete rivestirlo con la parte più chiara poi vi troverete il bordino qua del insomma del vostro orecchino più scuro ok quindi è che è una cosa che a me non piace assolutamente e non succede con gli ultrasuidi perché l'ultrasuidi avendo un unico colore il bordino è del colore del del tessuto non c'è assolutamente nessuna differenza tra il bordo e il sopra e mentre in questo caso avendo due colori se voi utilizzate rivestite l'orecchino con la parte chiara in vista il bordo risulterà sempre più scuro di cui del della parte superiore ora questa cosa dal mio punto di vista è fastidiosa non mi piace sinceramente però è un mio gusto personale però comunque in alcuni colori non è molto evidente in alcune colorazioni in altre è molto evidente e per questo motivo ci sono alcuni colori che assolutamente boccio di netto che sono il grigio eccolo qua questo che guardate che differenza di colore c'è io ho rivestito un orecchino con il grigio più chiaro e il bordo mi risultava quasi nero ora sì lo so che non si capisce bene vedendolo così però vedete che c'è proprio uno stacco netto tra il colore chiaro e quello scuro e una volta rivestita la creazione era troppo troppo evidente questa cosa cioè il contorno era come se fosse tutto nero anche perché ora qua vedete dei tagli precisi perché sono andata con le forbici a tagliarlo così ma quando rivestite l'orecchino poi usando le forbici in vari modi in vari sensi praticamente questo diventa più evidente perché il taglio non è netto e dritto ma magari anche un po andate magari a tagliare un po di più la parte sotto andate a tagliare un po di più la parte sopra insomma sto bordino nero era una cosa oscena e proprio non lo so per me ho rovinato quel paio di orecchini o rivestendolo con questo colore proprio proprio non mi piaceva quindi questo è in assoluto uno dei colori che io boccio boccio punto non ricomprerei mai ovviamente userò in altro modo questo tessuto nel caso degli altri colori allora questo qua che il turquoise jade non è così tanto evidente quindi diciamo che dal mio punto di vista è utilizzabile lo stesso il nude cream che essendo così chiaro non c'è assolutamente il problema del bordino di due colori poi nel caso del series marsala si vede un pochino ma è assolutamente poco evidente quindi diciamo che tra i colori che io promuovo poi nel caso di del blu che era montana e nevi qua è già un po' più evidente però diciamo che lo promuovo lo stesso poi questi sono i due colori che non ho provato ma mi preoccupano perché sono molto contrastanti i due colori allora il verde credo che forse sia passabile ma visto l'esperienza del grigio mi lascia dei forti dubbi dovrei insomma questo provarlo per poi dirvi precisamente se mi piace o no il marrone so già che non mi piacerà per niente perché è troppo evidente il contrasto tra i due colori e il bordino qua è super evidente appunto il bordo scuro in contrasto con il chiaro quindi sicuramente questo sarà uno degli altri colori assieme al grigio uno dei colori assieme al grigio che boccerò sicuramente quindi al di là di tutte queste parole diciamo che il mio assunto generale è che se dovessi scegliere tra ricomprare i due suede o l'ultra suede senza dubbio io comprerei l'ultra suede normale perché perché mi piace di più lo spessore perché non ci sono i problemi col bordo e perché mi piace di più punto però diciamo che questo non è un cattivo prodotto anzi è un buon prodotto è un buon tessuto e se volete provarlo non ve lo sconsiglio totalmente vi consiglio soltanto vi sconsiglio questi colori o comunque quelli che vedete sul sito troppo contrastanti tra il fronte e il retro vi daranno sicuramente il problema del bordo quindi pensateci se volete acquistarli spero di esservi stata utile in qualche modo per capire insomma per farvi un'idea se acquistare o no se provare o no questi tessuti vi mando un bacione e a presto ciao